Una battaglia che riguarda tutti i sardi, anche chi è portatore di handicap. La proposta di referendum dei riformatori sardi con cui si punta all'inserimento in costituzione del principio di insularità continua a registrare adesioni ma anche appelli. Come associazione di categoria dei disabili abbiamo aderito alla richiesta di firma per inserire nella Costituzione italiana l'insularità. Riteniamo l'insularità come tutti la definiscono un handicap, un handicap che è vissuto da handicap si amplifica. Basti pensare che molti disabili hanno necessità di spostarsi nella penisola o addirittura anche in Europa per poter avere una chance di salute e comunque di cura e spesso questo non è possibile proprio perché la continuità territoriale non è garantita, i costi sono elevati e questo è veramente molto difficoltoso da gestire. Quindi come associazione di categoria dei disabili chiediamo a tutte le altre associazioni, ai parenti dei disabili di poter anche loro aderire nei banchetti di raccolta firme che troveranno in tutta la Sardegna.